Nel cuore della Franciacorta, sulle pendici meridionali del Monte Orfano, Cappuccini Resort si erge sovrano su una collina da cui si può godere di una vista mozzafiato. Le campagne franciacortine e i filari ordinati di chardonnay e pino nero si stendono a perdita d'occhio. Il Resort occupa un antico convento riportato allo splendore originale e sarà uno scenario incantevole per posizione e atmosfera dove celebrare il vostro giorno più bello. Cappuccini Resort ospita al suo interno il ristorante Cucina San Francesco, l'Hôtel de Charme e la Beauty Spa Elis ed è in grado di offrirvi spazi ampi e salette più intime dalla sorprendente eleganza, un immenso parco verde con vista panoramica e la possibilità di celebrare il vostro matrimonio con rito civile sia all'aperto che al chiuso, in ambienti pieni di storia, arte, dettagli raffinati ed esclusivi. Tutti gli eventi al Resort seguono una linea sartoriale, su misura per chi sviluppa il pensiero e per chi lo vive, una sorgente di desiderio che vuole donare eleganza, fascino, stupore ed emozione. Vi verranno offerti servizi più curati e professionali, per non trascurare alcun dettaglio. Il personale dei Cappuccini Resort e Cucina San Francesco curerà infatti nel dettaglio ogni singolo aspetto delle vostre nozze, dedicandovi un servizio attento e professionale, che renderà esclusivo e indimenticabile ogni momento della vostra festa. Il vostro evento verrà organizzato seguendo una linea sartoriale e su misura, che trasformerà in realtà ogni vostra richiesta o desiderio, dalla scelta di menù preparati con ingredienti genuini e nel rispetto della tradizione gastronomica locale, alla decorazione degli spazi. L'ospitalità e l'accoglienza di questo luogo lasceranno un'impronta nel vostro cuore e il vostro matrimonio presso il Cappuccini Resort si vestirà di eleganza e fascino, lasciando un meraviglioso ricordo a tutti i vostri invitati.